gentili telespettatori buona giornata parliamo sempre di prescrizione zingaretti risponde a matteo renzi e gli dice guarda che te la stai prendendo con il partito sbagliato e alla fine quindi qualcuno dice ossessionato e attaccato questa mattina il partito sbagliato lo ha detto nicola zingaretti in apertura della direzione del pd in replica le dichiarazioni di matteo renzi sulla prescrizione mi aspetterei più misure e maggiore rispetto soprattutto da forze che si dichiarano avversarie di salvini e che invece stentano assai nel radicamento sociale e che ogni giorno si mettono in cattedra per dare lezioni di riformismo poi sulla prescrizione abbiamo fatto un enorme decisivo passo avanti dice zingaretti il ministro bonafede ha stravolto la posizione di partenza annunciando però l'apertura di un nuovo fronte critico con i 5 stelle quello dei decreti sicurezza basta subalternità di sicurezza non c'è nulla sia il governo ad approvare presto dei decreti che chiamerei di visibilità e vivibilità e sicurezza urbana quindi il sospetto è che zingaretti stia seguendo i 5 stelle sulla prescrizione per poi cancellare i decreti sicurezza di matteo salvini ecco almeno questo è la mia visione prettamente personale la mia opinione intanto italia viva di renzi in corsia solitaria quindi al suo predecessore ricorda non c'è spazio per terzi poli noi siamo centrali il movimento 5 stelle è in travaglio e rischia una disgregazione italia viva continua nella sua corsa solitaria e enfatizza i conflitti anche quando le sue ragioni possono avere un fondamento al vecchio rotto amatore zingaretti manda un alto lai dice sento parlare del pd come di un vecchio arnese non è l'unica forza in grado di arginare la destra quindi sta dicendo ma tu ti senti l'anti salvini per eccellenza ma guarda che alla fine magari non sei proprio tu che sei una vecchia scatola stanco del distinguo di renzi il segretario del pd lo incalza e dice il veto assoluto perché non è stato posto ad agosto e dicendosi contrario ad allungare la vita a un parlamento è in stato puramente vegetativo e poi aggiunge il pd non è disposto a subire temporaggiamenti furbeschi o manovre per indebolire il governo e poi li lancia la sfida ora il governo deve accelerare e noi siamo pronti come dire e tu sei pronto no renzi non è pronto renzi sta facendo i suoi giochini personali per cercare di portare il suo partito in alto ed evitare il cambio della legge elettorale che lo farebbe fuori lo taglierebbe fuori dalla politica per la prossima legislatura mentre matteo renzi aveva detto non riesco a capire perché il pd non utilizzi la forza del risultato in emilia romagna per dettare l'agenda ma continui a inseguire quella dei 5 stelle se al citofono del nazareno c'è scritto citofonare travaglio è un mutamento genetico è il passaggio del riformismo al giustizialismo ma attenzione matteo renzi fa lo stesso errore che fanno in tanti di pensare che l'emilia romagna sia un risultato così eccezionale che il pd possa dettare l'agenda attenzione ultime nove elezioni regionali il centro sinistra ne ha perse otto ed è riuscito a tenersi una regione non a vincerla a tenersela quindi la perdita è di 8 a 1 è come in una partita che finisce 8 a 1 e nello stesso giorno che è riuscito a tenersi l'emilia romagna in calabria ha perso di quasi 26 punti di percentuale di distanza quindi di che sta parlando matteo renzi dice non perché non capisco perché il pd non utilizzi la forza del risultato in emilia romagna chi lo sa certo che quello di citofonare travaglio basta una metafora abbastanza interessante e zingaretti replica e dice in molti casi il dibattito è confuso e strumentale sappiamo che c'è tanto da migliorare ma resto assai perplesso quando sento giudizi sul pd come se fosse un vecchio arnese e poi aggiunge il pd può fronteggiare la destra il liberale e portare avanti l'agenda di governo compito resto complesso da una continua fibrillazione politica da altri mi aspetterei più misura e rispetto specie da chi si dice avversario di salvini a ogni giorno si mettono in cattedra per dirci come essere più riformisti beh quindi zingaretti se le prese perché hanno detto che il suo pd è un vecchio arnese forse doveva dire le renzi una vecchia scatola vuota che l'arnese lo può utilizzare la vecchia scatola vuota si la può utilizzare è vuota non c'è dentro niente ci puoi mettere dentro qualcosa nella scatola vuota ma non c'è dentro niente mentre l'attrezzo vecchio può essere anche utilizzato immediatamente mentre la scatola vuota no ma zingaretti si è offeso e poi parla di destra il liberale questa è un'altra è un'altra sciocchezza veramente la destra il liberale no c'è un centrodestra normalissimo non c'è una destra il liberale ma c'è un centrodestra normale non è una piccola differenza è una gigantesca differenza intanto c'era tra virgolette il passo avanti del ministro grillino della giustizia alfonso bonafede andato incontro alla proposta di leu sottoscritta dal pd arrestare isolati sono i renziani di italia viva mancano i loro sì e non sono pochi perché possono far saltare tutto anzi faranno saltare tutto quindi mancano i loro sì per sciogliere definitivamente il nodo prescrizione ma al nuovo vertice convocato ieri sera dal premier conte hanno ridetto no attenzione nei mesi scorsi abbiamo assistito a un di maio che diceva no alla modifica del mess no alla finanziaria delle tasse e poi il giorno dopo diceva sì no beh come no certo che sì ecco renzi non è così non dice prima no e poi sì renzi continua a dire no 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 perché lui segue il suo obiettivo personale mentre quello di di maio l'obiettivo di di maio e dei 5 stelle era rimanere al governo per lo stipendio e quindi sono due cose simili ma diverse l'altro era costretto a cambiare idea per forza prima il no e poi diventava un sì mentre renzi non deve dire no che diventa un sì deve continuare a dire no per cercare di far cadere il governo prima che cambi la legge elettorale e lo tagli fuori per la prossima legislatura con la minaccia di votare insieme alle opposizioni la proposta di legge del forzista enrico costa che abolisce quella riforma se non passa la camera la ripresenteranno al senato dove senza italia viva la maggioranza diventa minoranza l'accordo raggiunto spiega matteo renzi al circo massimo è sicuramente un passo in avanti ma mantiene un principio che io non condivido che è giustizialista non capisco perché il pd tradisca le leggi del nostro governo l'esecutivo ha spiegato ancora renzi non ha i numeri sull'accordo io non lo voto e sull'ipotesi di un passo indietro del suo partito un'uscita dal governo con un appoggio esterno per non farlo cadere ha detto far cadere il governo assolutamente no 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 ma se ci vogliono buttar fuori lo dicano se ci dicono ho cambiato idea o vi buttiamo fuori noi non cambiamo idea quindi al no di di renzi reagisce il presidente del consiglio che affida il suo pensiero a facebook il dialogo il confronto l'ascolto sono sempre state parole chiave nello svolgimento del mio ruolo ma arriva il momento delle decisioni gli italiani si aspettano risposte non litigi e rinvii scrive giuseppe conte e anche confido che tutte le forze di maggioranza riescano a condividere la medesima e ragionevole posizione ma la mediazione alla fine ha trovato d'accordo tre partiti che sono pd 5 stelle e leo liberi uguali sarebbe leo sulla quale bonofede ha ceduto quella proposta del deputato di leo federico conte che di fatto mantiene il blocco della decorrenza della prescrizione solo per gli imputati condannati sia in primo che in secondo grado da introdurre subito se possibile già nel decreto mille proroghe con un altro provvedimento d'urgenza in modo da sminare le contromosse di renziani e opposizione però il fatto è che se renzi ha già deciso di votarlo di votare no a prescindere per cercare di far cadere il governo di non far avere i numeri per renzi andava poteva essere la prescrizione poteva essere qualsiasi altra cosa vedremo se per renzi veramente che cosa è importante nei prossimi giorni quando voteranno e questo questa cancellazione della prescrizione o no in senato io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito a iscrivervi al canale l'iscrizione assolutamente gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti i nostri video che sono presenti su youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet fuori da internet io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci